Perché poi, vedete, nella norma, dovrei fare un esempio un po' blasfemo per capire, per rispondere alla CGL rispetto agli scenari apocalittici che ha fatto per questi accordi. Che vale quello che disse una suora in un convento del 600 dove entrarono i briganti, le violentarono tutte tranne una e il santo ufficio la interrogò e gli chiese Ma come mai lei non è stata violentata? E lei rispose perché ho detto di no. Il sindacato può dire di no.